Il mio nome è Anna. Anna! Lo sapevo! La figlia di Gauke è tornata! Lo sapevo che sarebbe arrivato questo giorno. Ecco. Qual è Gauke? Tuo padre. Questo è mio padre? Mo, da dove comincio? Te la ricordi quella terribile inontazione 30 anni fa in Olanda? Tutta l'Olanda era stata sommessa. No, ma perché devi sempre esagerare? E ora c'è un debole per il dramma. Ma fu una tragedia terribile, un disastro per tutti quelli che l'avevano vissuta. E per un uomo in particolare, ci stava tuo padre. Lui desiderava qualcosa di meglio per sé. In soli cinque giorni si è fatti in bicicletta dall'Olanda fino all'Italia. Mamma! È arrivato Gesù! È proprio lui! Vado! Olanda! Olanda, capitale della rarimarca! Gauke! Gauke! Zoccolo! Zoccolo! Vai! Vai! Come stai? Buongiorno! Mio moglie vuole conoscerti. È una moglie? Valla a cercare! Gauke! È bellissima! Sua madre era la donna più bella che avessi mai visto. Perché dovrai mentire? Continua. Avresti dovuto rimanere a casa tua, l'andese. l'ho visto con i miei occhi. Vai! Ciao! Bravo, Gauke! Bravo, Gauke! Ma che fai? Mamma mia! Vado! Tenta la terra dei barbari viene! Grazie a tutti.